Voci all'esperto, un programma realizzato in collaborazione con Gioielleria Consumi a Ponte a Poppi Gioiella Consumi a Ponte a Poppi Cari amici telespettatori mi compete l'obbligo di darvi il benvenuto o meglio il bentornato all'interno della nostra rubrica di approfondimento settimanale che porta il nome di Voce all'esperto. Il nostro settimanale appuntamento in compagnia degli esperti che di volta in volta si avvicenderanno nel corso della nostra trasmissione e che cercheranno di dare una risposta chiara, esauriente in maniera molto semplice alle tantissime domande che settimana dopo settimana attanagliano un po' la nostra mente, la nostra esistenza. Ci state veramente letteralmente sommergendo anche di domande dal web da casa e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti voi cari amici telespettatori che ci seguite appunto sulle frequenze del canale 190 per l'affetto e per tutto quello che mi state dando e che state dando a questa nostra rubrica di approfondimento settimanale. E quindi continuiamo, continuiamo a parlare, ad andare avanti con la nostra cavalcata con gli esperti e continuando a parlare di salute. Questa settimana lo faremo con il dottor Tiziano Innocenti, fisioterapista che io ringrazio per essere intervenuto qui nella nostra rubrica Voce all'esperto. Quindi grazie e benvenuto a Voce all'esperto. Ben trovati, ben trovati a tutti. Ciao Daniele, ben trovati a tutti i telespettatori del canale. È un vero piacere per me essere qui dietro il tuo invito perché sai e conosci bene un po' la mia storia e la mia passione rispetto a quello che poi è diventato il mio attuale lavoro, ovvero quello di fisioterapista. Quindi grazie ancora, ci tenevo molto a ringraziarti per l'invito. Grazie mille, il piacere chiaramente è sempre nostro quando esperti del vostro calibro, qualunque lavoro facciate, comunque accettate di venire a chiacchierare per una mezz'oretta in trasmissione con noi, un po' per intrattenere, un po' per chiaramente dare consigli e suggerimenti a chi ci guarda da casa, su vari aspetti, su varie tematiche che riguardano un po' tutti noi, la salute, il benessere, il lavoro, l'alimentazione e tutta una serie di argomenti che settimana dopo settimana cerchiamo di affrontare in questa nostra rubrica. E per iniziare a bomba vorrei chiederle immediatamente di parlarci della figura del fisioterapista perché c'è bisogno di fare chiarezza, chiaramente, c'è bisogno di, come dicevo all'inizio, di essere semplici ma anche esaurienti in ciò che viene detto e quindi fare una panoramica sulla figura del fisioterapista, chi è questa figura e di che cosa si occupa? Sì, il fisioterapista, come forse tutti sanno, è un professionista, innanzitutto è un professionista sanitario che per poter operare, per poter lavorare, ha, diciamo, superato l'esame abilitante alla professione dopo aver conseguito una laurea nell'ambito delle professioni sanitarie e della durata di tre anni. Questo mi preme molto sottolinearlo essenzialmente perché purtroppo molti finti esperti o finti fisioterapisti continuano un po' a giocare, diciamo, con la salute dei pazienti e questo è un problema. Il fisioterapista, innanzitutto, come abbiamo detto, è un professionista sanitario che sia autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie o mediche identifica, diciamo, e adotta le migliori strategie in ambito di prevenzione, valutazione, cura, abilitazione, riabilitazione ed anche in ambito palliativo di disfunzioni di vari sistemi, ovvero patologie che possono incorrere, ad esempio, all'apparato neuromuscolo-scheletrico, sensoriale, cognitivo, cardiocircolatorio, genito urinario, eccetera. È una professione che spazia molto. Io personalmente mi occupo di problematiche muscoloscheletriche, ma l'ambito del fisioterapista è proprio un ambito che copre a 360 gradi disfunzioni in tutti i sistemi dell'organismo, del corpo umano. Ha, appunto, come abbiamo detto, un titolo abilitante e da due anni a questa parte è stato istituito l'ordine, diciamo, dei fisioterapisti, delle professioni sanitarie e il fisioterapista, per poter lavorare, operare in tutela legale, deve essere iscritto all'ordine. Quindi questo è, diciamo, una postilla cardine per poter operare e agire, insomma. Certo, certo, assolutamente. E per quali generalmente, quali sono le, chiamiamole se vogliamo, patologie, ma anche problemi in modo più generico? Quali sono i problemi per cui spesso e volentieri si ha bisogno della figura del fisioterapista, quelli più comuni? Allora, innanzitutto, questo è un, come vi ho appena anticipato, è un, quella del fisioterapista è una figura che lavora a 360 gradi sulla salute. Diciamo che, soprattutto, ad esempio, nel mio, nel mio ambito, quindi posso portarvi l'esperienza che è, che è mia, è proprio della mia professione, ovvero l'ambito muscolo-scheletrico, diciamo che le disfunzioni a carico della colonna vertebrale sono, diciamo, quelle più frequenti, sia come incidenza che come frequenza nella popolazione generale. Si pensi che è stato stimato da studi scientifici che il mal di schiena affligge circa l'85% della popolazione, ovvero almeno l'85% della popolazione avrà almeno un episodio di mal di schiena all'interno della propria vita. E mal di schiena stesso, ad esempio, è una delle problematiche che sono al quarto posto di cause di disabilità. Eh, cosa significa? Disabilità significa, eh, quanto le patologie influenzano la vita dell'essere umano. E, ad esempio, nell'ultimo, diciamo, survey mondiale, era proprio al quarto posto, dopo, ad esempio, traumi da incidente stradali e patologie cardiovascolari, che sono, che sono delle problematiche ad alto tasso e ad alto impatto di disabilità. Eh, capita molto spesso, infatti, di, eh, avere, visitare, vedere pazienti che hanno problemi a livello cervicale o a livello di, eh, colonna lombare. Altra, diciamo, tipologia, eh, di problematiche con cui ci si trova molto spesso a dover combattere, a dover affrontare, sono tutte quelle patologie, chiamiamole degenerative, come, ad esempio, eh, l'osteoartrosi, ovvero la degenerazione fisiologica delle articolazioni, che molto spesso porta, nelle persone, soprattutto, in, tra la quinta e la sesta decada di vita, a dover ricorrere agli interventi chirurgici, quali protesi di ginocchio, protesi di anca e quant'altro. Quindi, diciamo che queste, a mio avviso, sono le, eh, patologie un po' più, eh, frequenti, soprattutto, come, come ho specificato, quelle a carico della colonna vertebrale. Certo, certo. Lei ha appena parlato, appunto, di muscoli, di scheletro, cose che, eh, chiaramente di cui ogni essere umano è fatto e composto. Alle volte, e qui alle volte capita che, chiaramente, chi sta conducendo questa trasmissione soffra di alcuni, eh, disturbi molto particolari, ma, come, eh, spesso accade, non vorrei fare, eh, del, non vorrei fare un uso, diciamo, privato del mezzo pubblico. Però, alle volte capita, e credo che sia un problema molto comune, quando, eh, succede qualche piccolo problema di infiammazione muscolare, che poi il dolore si ripercuota anche su altre parti del corpo, ad esempio la testa, ad esempio, eh, gambe o magari perché si è infiammato qualche muscolo che non ha nulla a che vedere o che proprio non si trova in, in questi punti del, del corpo. Questo succede perché? Cioè, eh, diamo una sorta di correlazione e cerchiamo di far capire anche a chi ci segue da casa cosa succede all'organismo umano quando si infiamma, ad esempio, un muscolo della spalla, eh, del, del, del collo, della schiena, e però sentiamo ripercussioni anche su altre parti del corpo. Sì, allora, eh, la, la domanda, il punto di discussione è assolutamente interessante. Innanzitutto perché molto spesso, eh, appunto si dà sempre colpa all'infiammazione. Non sempre l'infiammazione è la causa di problematiche muscoloscheletriche. Molto spesso è il nostro corpo che si adatta a particolari, eh, condizioni, vuoi di postura, vuoi di, eh, stress in ambito lavorativo. E capita molto spesso di incorrere nel fenomeno che giustamente stava, stava dicendo, che è quello del dolore riferito. Eh, si intende dolore riferito proprio, eh, diciamo, quella particolare condizione in cui il paziente sperimenta dolore, eh, diciamo, eh, espanso in una zona cutanea, in una zona corporea distante dalla zona di disfunzione. Questo è molto, molto frequente, ad esempio, nei casi di cervicalgia. Capita molto spesso di, eh, sentire pazienti che dicono ho la cervicale. Innanzitutto mi preme un po' sottolineare il fatto che per cervicale si intende essenzialmente un distretto anatomico, come può essere la spalla, come può essere un gomito, come può essere un ginocchio. Quindi la cervicale è, diciamo, quel distretto corporeo che sta tra, eh, diciamo, la fine dell'occipite e l'inizio delle, eh, vertebre toraciche, è composto, appunto, da sette vertebre. Capita molto spesso di vivere, eh, e di sentir, lamentarsi pazienti di problematiche a carico di questa regione, eh, corporea. E molto spesso vi è una, eh, ignoranza, nel senso di non conoscenza, rispetto a quello che, che, che questo tipo di problematica può dare. E molto spesso il paziente si allarma proprio perché, oltre al fastidio al collo, sente fastidio, ad esempio, giustamente come, come è stato sottolineato, nelle zone della testa, fino a volte anche, proprio nelle zone del massiccio facciale, come ad esempio, eh, l'occhio o il, o il, o la guancia. Questo accade proprio perché, eh, il corpo attua un meccanismo di difesa in cui, eh, alcuni, diciamo, eh, segnali che provengono da, eh, zone colpite tendono a espandere la, la zona di risposta, di risposta dolorosa. È molto frequente, infatti, eh, che il paziente con problematiche a livello cervicale, problematiche ad esempio muscolari o problematiche a livello articolari o degenerative come artrosi, possa sperimentare dolore al cranio e quindi possa sperimentare quella che viene comunemente chiamata cefalea cervicogenica o cefalea muscolotensiva, ovvero dolore alla zona del cranio derivante dalla parte cervicale o dalla parte muscolare della, eh, della zona cervicale. Queste molto spesso, innanzitutto, mi preme, eh, tranquillizzare che ci sta seguendo, sono delle condizioni a, eh, evoluzione assolutamente benigna che, se prese in carico nel modo giusto e in tempo, possono trovare risoluzione nell'arco di poche settimane. Eh, molto spesso, purtroppo, si dà proprio, eh, rilievo a questo quadro infiammatorio, quindi il paziente molto spesso viene sottoposto a terapie farmacologiche anche abbastanza, anche abbastanza invasive. Quando le linee guida ministeriali, ovvero quei documenti che a livello di Ministero della Salute, eh, sono emanati per definire, determinare dei, delle, delle linee di azione, ci dicono che, ad esempio, in un paziente con mando di schiena, in un paziente con problematiche, eh, cervicali, a primo impatto i farmaci sono sconsigliati, proprio perché molto spesso questo deriva da, essenzialmente, uno squilibrio da un punto di vista muscolare e non ad un'infiammazione come siamo comunemente, eh, portati a pensare. Tant'è che questi pazienti molto spesso riferiscono di stare meglio applicando una fonte di calore, ad esempio, nella zona del collo, cosa che, in presenza di infiammazione, che già di per sé l'infiammazione mi stimola, eh, calore, sarebbe assolutamente controindicato. Spero di aver fatto una, una panoramica, eh, Daniele, circa queste, eh, che non è facile, mi rendo conto non è facile perché purtroppo molto spesso si tende a, eh, sopravvalutare o sottovalutare e molto spesso manca proprio quello che è l'indirizzo corretto di, di cura e prevenzione. No, no, assolutamente è stato, è stato molto chiaro, qui le domande, eh, sono tante, quelle che sorgerebbero spontanee in particolar modo. Lei ha parlato di utilizzo di farmaci, eh, credo antidolorifici o antinfiammatori per quanto riguarda, appunto, la gestione di questi, di questi dolori, di questi problemi che è fortemente sconsigliato, come diceva e come suggeriva, subito affidarsi a, a farmaci di questo genere. In più ha, eh, dato, secondo me mi ha dato lo spunto per porle un quesito abbastanza particolare perché dalla mia esperienza, eh, si evincono due strade diverse, eh, nel senso ci sono, eh, magari, eh, esperti, fisioterapisti vecchio stampo e, eh, quelli un po' più, eh, giovani come mi, mi sembra che sia lei, non per questo, non, 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 non con esperienza, che alcuni consigliano di applicare prodotti caldi, altri prodotti freddi, ecco, quando subentra qualche piccolo problema di, di, di questa, di questa tipologia. Qual è il, il rimedio, diciamo, più efficace, non quello chiaramente curativo, non abbiamo la bacchetta magica, però, eh, siccome alcuni dicono, eh, bisogna mettere roba calda, cose calde, o alcuni dicono, no, meglio mettere cose fredde, per capire, per fare anche, per cercare di capire qual è la strada migliore, ecco, quando subentrano questo tipo di problema. Allora, assolutamente sì, e su questo ha, ha un po' sfondato una porta aperta, perché capita molto spesso di, eh, sentire e, e vedere proposto a pazienti le più disparate, i più disparati, eh, rimedi. Eh, innanzitutto, quello che dico sempre è che il fisioterapista è una persona di scienza, è un professionista, eh, e, e come tale deve comportarsi, quindi, eh, rimedi quali, eh, fanghi, piuttosto che, eh, terapie alternative generalmente dovrebbero essere sconsigliate. Sul, eh, diciamo, argomento caldo-freddo, eh, c'è un po' un, un dibattito, e in realtà non esiste una, una risposta, una risposta definitiva. Eh, quello che generalmente viene consigliato è di assecontare quello che generalmente preferisce il paziente, ovvero un paziente, un paziente viene in studio da me e, eh, mi riferisce che ha provato a mettere il freddo e il freddo lo ha fatto star bene, anche se ipoteticamente io sono più portato a pensare che possa essere il caldo la soluzione migliore, diciamo che avere già questo aggancio, avere questo fattore, chiamiamolo, eh, alleviante rispetto alla problematica del paziente può aiutarci a, eh, gestire la problematica. Diciamo che da un punto di vista, eh, eziologico, ovvero di, eh, cosa causa il, eh, le problematiche cervicali, qualora se fossimo, eh, di fronte a una problematica di origine muscolare, quindi di rigidità muscolare, in cui il muscolo ha creato una sorta di spasmo protettivo, in cui si trova in una condizione di ipercontrazione, ovviamente l'applicare la fonte di calore generalmente, eh, è, è maggiormente consigliato rispetto al freddo. Diciamo che se un paziente non avesse mai sperimentato benessere tra caldo e freddo e si trovasse di fronte a dover scegliere, il mio suggerimento sarebbe, il mio suggerimento è quello della, della scienza, sarebbe quello di, eh, applicare caldo. Ovviamente il caldo non è la cura a tutti i mali, il caldo è solo una delle, eh, strategie con la quale il paziente prende un po' coscienza, eh, di sede, il suo collo inizia a, eh, prendersi cura e in, in questo insieme all'intervento del fisioterapista, insieme a un programma specifico di esercizi, eh, domiciliari generalmente fa passare molto, molto, molto rapidamente quella che è una delle problematiche che affligge maggiormente la popolazione e che, diciamo, un po' tutti, eh, prima o poi nella vita saranno portati a, a sperimentare. Certo, 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 assolutamente. E, ehm, quest'anno in questa edizione di Voce all'Esperto, come ormai avrete imparato a capire, diamo molto spazio anche alle domande che, eh, ci, eh, fate, eh, da casa, ci pervengono da, dal web, dalle vostre curiosità, le vostre domande che, eh, noi settimana per settimana cerchiamo di selezionare in comune accordo con l'esperto con cui andremo a parlare. E questa settimana la nostra telespettatrice, eh, Serena, proprio riferito agli argomenti di cui abbiamo appena parlato e quindi di postura e di, eh, diciamo, corretta posizione del corpo, molto probabilmente è in una, eh, sezione, in una sessione della, eh, della propria vita abbastanza frenetica e stressante come quello degli esami e ci chiede quale posizione sarebbe corretto mantenere durante le lunghe sessioni di studio o di preparazione a un esame. Quindi credo che in qualche maniera si riferisca a ciò che, eh, è stato detto e che magari merita un piccolo approfondimento. Assolutamente. Eh, anzi, ringrazio la telespettatrice per la domanda che è molto interessante e che è un altro di quei, di, chiamiamoli topic chiave che molto spesso si sente dire, si sente parlare. Eh, allora innanzitutto sul, sulla postura c'è un gran mito. Eh, si trovano su internet, eh, apro una parentesi, diffido, eh, qualsiasi paziente, qualsiasi cittadino a cercare soluzione ai propri problemi fisici su internet, ma di rivolgersi sempre al, all'esperto di competenza. Anche perché, scusi, secondo Google saremmo tutti già deceduti da tempo, chiedo scusa per... Assolutamente, assolutamente. L'introduzione inopportuna, ma è quello che generalmente accade quando si cercano patologie su Google. Assolutamente sì. Pensate che in, in America, nel, chiamiamolo Google, eh, americano, è messo proprio, è stata messa proprio una, una postilla, diciamo, sotto, sotto il browser, eh, che invita proprio i cittadini a non interrogare il browser nel, nel caso in cui, eh, si trovino di fronte a problematiche di salute. Questo per far capire proprio perché, eh, quanto è importante in realtà, eh, rivolgersi all'esperto. Eh, chiudendo questa piccola parentesi, che però è molto doverosa, perché sempre più spesso mi capita di, eh, visitare pazienti che cercano le più disparate soluzioni, riguardo alla domanda della telespettatrice, diciamo che vige una, una, una regola, una, una frase cardine tra noi fisioterapisti esperti in ambito muscolo-scheletrico, che quando ci chiedono qual è la postura migliore, la nostra risposta è la prossima che adotterai. Proprio perché in realtà, eh, rispetto a quanto si pensi, eh, quanto si pensa generalmente in, in, in uso comune, non esiste una postura ideale, non esiste una postura perfetta. Anche la, eh, postura migliore del mondo, quella, chiamiamola da libro, passatemi il termine, se protratta a lungo nel tempo, può provocare problematiche. Tant'è che, eh, la sedentarietà, quindi la, la mancanza di esercizio fisico, il, il, il dover, mh, lavorare generalmente sempre in, in, in modo sedentario, in una stessa posizione, eh, sono alcuni dei, dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo proprio di condizioni a carico della, della parte cervicale, della parte lombare della colonna. Quindi, eh, il suggerimento non è quello di, mh, cercare una postura ideale, ma di fare alcune pause frequenti, cambiare postura, cambiare le più disparate, eh, posture senza, eh, fissarsi in mente una, una postura ideale, proprio perché è il, lo stop della routine sedentaria, quello che fa bene all'apparato muscoloscheletrico e non trovare una postura da libro da dover mantenere nel tempo. Questo in realtà, ehm, apre ad una discussione abbastanza importante circa, ad esempio, il ruolo della sedentarietà nelle problematiche muscoloscheletriche. È stato visto che, eh, la, la mancanza di attività fisica, la mancanza di esercizio fisico, il fare un lavoro, eh, prolungato, lunghe sessioni di studio, soprattutto in una fascia di, di età che, eh, magari non lavora, ma che è, eh, diciamo, caricata da posture prolungate, porta al possibile sviluppo di problematiche muscoloscheletriche. Quello che io generalmente, ad esempio, suggerisco a, a, ai pazienti che possono farmi una domanda simile ed è molto frequente, è quella di provare a fare delle piccole pause all'interno delle sessioni. Ogni 20-30 minuti provare a cambiare, a cambiare postura e a fare qualche banalissimo esercizio, qualche movimento per interrompere la routine del, eh, del momento. Questo perché è stato visto che il muscolo, la muscolatura è molto più portata a contrarsi se, eh, diciamo, sottoposta a un carico submassimale, quindi a un carico, eh, minore ma protratto nel tempo, piuttosto che ad un carico massimale, ad esempio se io dovesse eseguire un sollevamento di, di, di una scatola di, di, di pasta, ad esempio, è molto più, meno gravoso quello, piuttosto che, eh, stare per molto tempo nella stessa, nella stessa posizione. E il consiglio che si dà, ovviamente, a tutti è di, eh, fare dell'attività fisica, eh, diciamo, la propria religione di vita. Quindi, eh, riuscire a, eh, inserire almeno due, tre, due, tre volte a settimana per 40-45 minuti un'attività fisica. Quale attività fisica? Perché anche questo molto spesso viene, viene chiesto. Eh, qualsiasi attività fisica, qualsiasi sport, eh, ma non necessariamente c'è la necessità di dover fare uno sport di squadra. L'attività fisica può essere anche semplicemente andare due, tre volte a settimana a fare una camminata magari con dei dislivelli all'interno del terreno, un po' di salita, un po' di discesa. Questo generalmente è uno dei fattori protettivi e, 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 è uno di quei fattori che riduce la probabilità di soffrire di problematiche muscoloscheletriche. Assolutamente, assolutamente. E di come fare attività fisica, mi permetta questa piccola divagazione sul tema per iniziare a chiudere questo appuntamento di Voce all'esperto e dare, appunto, appuntamento alla prossima, eh, puntata di Voce all'esperto di come fare attività fisica. Ne parleremo la prossima, eh, nella prossima puntata con la nostra istruttrice di fitness per eccellenza, Chiara Gondoni, che per l'appunto ci darà suggerimenti su come affrontare, appunto, al meglio l'attività fisica per evitare di incorrere nei problemi di cui abbiamo parlato in questa puntata col dottor Tiziano Innocenti. Per iniziare a chiudere il nostro appuntamento, le chiederei se c'è qualche altra cosa che vuole aggiungere. So che c'è un link di riferimento da andare a vedere. Insomma, ci parli un po' di queste cose per poi iniziare a chiudere con suggerimenti e con la classica nota ottimistica che siamo soliti dare a voce all'esperto per, diciamo, vivere al meglio la nostra vita e soprattutto viverla in salute. Sì, grazie innanzitutto per questa chiacchierata più che piacevole. Quello che mi fa piacere, diciamo, sottolineare in chiusura di puntate è proprio quello di, abbiamo parlato poco fa del dottor Google, tanto quanto il dottor Google non deve essere consultato, non devono essere consultati professionisti che non sono abilitati all'esercizio della professione. Questo mi preme sottolinearlo perché? Perché avete capito che il fisioterapista è quella figura sanitaria che dopo abilitazione specifica agisce all'interno di un ambito patologico, quindi all'interno di patologia. Affidare la propria salute a tutte le mani è un problema e quindi quello che consiglio sempre è di verificare da parte del paziente se il professionista, in questo caso il fisioterapista, al quale ci si sta rivolgendo è regolarmente abilitato all'esercizio della professione. Per far questo il nostro ordine ha, diciamo, istituito un canale tramite, che il cittadino può consultare tramite il link che potete mandare, insomma, in pressione, esatto, proprio questo, all'interno del quale inserendo il nome e cognome del fisioterapista, in questo caso, si riesce a comprendere se è regolarmente iscritto all'ordine e quindi se può regolarmente svolgere l'esercizio della professione, poiché l'iscrizione all'ordine è vincolante per lo svolgimento dell'esercizio della professione. Quindi io concludo questa puntata invogliando qualsiasi cittadino a cercare di capire se il professionista al quale si sta rivolgendo è un professionista regolarmente abilitato all'esercizio della professione per la tutela di se stesso e la tutela della propria salute. Concludo ringraziando molto per l'invito e spero possano esserci ulteriori occasioni in futuro per poter tornare qua tra voi e con i vostri telespettatori. Questo sicuramente ci farà estremo piacere perché è stato estremamente chiaro nelle spiegazioni, abbiamo potuto constatare anche la sua estrema competenza nel settore, e non a caso appunto è la sua professione e come in tanti esperti che settimana dopo settimana ci hanno raggiunto si può anche constatare una certa passione perché credo e immagino è argomento che abbiamo ripetuto più volte però se la passione viene meno credo che venga anche meno una certa professionalità e questo chiaramente lo potrà confermare come lo hanno confermato tutti i suoi colleghi che appunto sotto altri aspetti e altre materie l'hanno preceduto. Assolutamente sì, senza passione non si va avanti, io sono un forte sostenitore della passione lavorativa, ho la fortuna di fare il lavoro che amo e di metterci passione in quello che faccio e assolutamente questo penso sia un valore aggiunto perché mettere passione in tutto quello che si fa sicuramente porta risultati migliori. Assolutamente sì, quindi noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato sicuramente la ritroveremo in onda in qualche nostra trasmissione o chissà appunto anche in una prossima puntata di Voce all'esperto sicuramente perché insomma il conduttore stesso ha bisogno delle sue pratiche fisioterapiche ogni tanto quindi fondamentalmente sarà sempre un piacere averla nostro ospite, chiedo scusa, in trasmissione qualunque essa sia per parlare appunto di benessere, di salute, di fisioterapia. E detto questo e ringraziando il dottor Tiziano Innocenti per averci dedicato per l'appunto una piccola parte, porzione del suo tempo io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti i telespettatori che hanno avuto l'ardire di seguirci fino a questo momento l'appuntamento con Voce all'esperto è per la prossima puntata e io vi auguro un buon proseguimento con le nostre trasmissioni e i nostri programmi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a tutti. Voce all'esperto Un programma realizzato in collaborazione con Gioielleria Consumi a Ponte a Poppi